Rispetto al 20% che nell'aventamento il governo ha tolto dei fondi per i taxi, delle licenze, si aspetta un cambio di lotta da parte del governo rispetto ai comuni italiani? Io spero che il governo faccia un decreto con un articolo, una riga che elimini questo errore perché è davvero clamoroso che si tolgono risorse preziose per i comuni. Questa cancellazione del 20% è un bullos grave che noi abbiamo segnalato da subito presentando gli emendamenti, quindi non c'è nulla di polemico e neanche di confronto politico maggioranza opposizione, è un fatto pratico, è inconcepibile che si tolgano, si scippino i comuni delle risorse di una parte dei proventi e licenze perché questo ci costringe o a dover rinunciare a risorse preziose per i cittadini e per il servizio o a dover rinunciare alla procedura accelerata. Quindi se vogliono che usiamo la procedura accelerata non ci tolgano le risorse della quota di licenze aspetto ai comuni. È sempre stato così e io penso sia stato anche un errore quindi non capisco perché incavonissi nel difendere. Basta correggerlo, ci vuole poco quindi diciamo che questa è l'affetto. Grazie.